Sono passati 33 anni dal Blues Brothers. Volevo chiedergli due cose. Allora, uno, se secondo lui ancora oggi Statutene Live ha quella forza esplosiva che aveva all'epoca di quando lui, appunto, e John Belushi sono appunto incontrati all'interno del Statutene Live e qual è ancora, secondo lui, oggi il motivo del grande successo, della grande presa che ha nei confronti anche dei giovanissimi, quel film? I will answer your second question first and I'll go back to the first one after. The secret to the Blues Brothers appeal. Al di là del fatto che ci sono generazioni di genitori, nonni, che fanno sentire ai loro figli, ai loro nipoti e fanno vedere quel film e quindi viene tramandato perché, appunto, credono che sia un film importante, formativo, anche per i loro figli e i loro nipoti, ma l'unica grande cosa che lo rende immortale, lo rende imperituro è la musica, cioè la musica afroamericana, le canzoni che hanno fatto la storia della musica, del blues e di tutto. Tra l'altro, dice, io e Belushi eravamo due frontman sicuramente eccezionali ma indietro avevamo una band strepitosa c'era Otis Redding, c'era questo batterista Steve Jordan che aveva debutato a soli 19 anni, un fenomeno, un talento vendettero non so quanti milioni di dischi 40 milioni di dischi, una cosa inimmaginabile oggi e l'unica cosa veramente che è rimasta è la musica. la musica che racconta la storia dell'America that kind of music tells the story of America it does, it does and the artists that we had in there were really just the best Ray Charles, Aretha Franklin James Brown was a good friend of mine yeah, it's going to be in Italy and you are so much I love it, Italy so good all the people are, you know, friendly and everything and you love the blue you love the blue and I'll be in Italy let me tell you that James Brown e questa è una delle cose che fa Saturday Night Live James Brown tra gli altri Aretha Franklin Ray Charles in quel film c'è veramente chiunque what about Saturday Night Live? today what are a represent for the American culture today? more impact than ever routinely 10 to 14 million viewers in realtà è più forte che mai Saturday Night Live incolla allo schermo 15 milioni di spettatori viene studiato all'università influenza le elezioni americane e scopre i più grandi talenti della comicità il produttore da 38 anni è il più grande talent scout di comici americani lo sappiamo perché poi li vediamo al cinema insomma tutti i grandi che arrivano dal Saturday Night Live da Seth Rogen che adesso è molto quotato tanti altri insomma che poi arrivano al cinema potremmo chiedergli invece qualcosa sull'altro grande mito il film mito o almeno della nostra generazione che sta per avere un sequel ovvero i Ghostbusters visto che qui ci sono molti fan ci sono molti fan cosa accadrà a Ghostbusters 3? cosa accadrà a Ghostbusters 2? cosa accadrà a Ghostbusters 2? l'unico cosa che posso dire è che sono estremamente optimistico non posso dire molto perché ci sono proprio i segreti dell'industria cinematografica che non posso svelare sul progetto posso dire di essere molto ottimista e di poter svelare qualcosa molto presto l'unica indiscrezione che è riuscita è che Bill Murray non credo che farà parte del progetto ma che il progetto si farà ugualmente ci sarà Ghostbusters 3 quindi questa è la certezza che ha dynamic the story is evolving very exciting